Ma bravo, è un buono che ci stanno controllare, è comodo. Sentite, donna Flavio, io l'aspetto in ausi che gli ci ha fatto. Che aspettate, aspettate. Eh, salutiamo Mossegnazio. Ve ne diciite, maestro. Ve ne diciite? Non la mettoneta. E vede, Mossegnazio, ma guardate. Non ha fatto due chiacchere, anzi, non ha fatto quaccio. Allora, donna, Mossegnazio, che successe cosa qua? Niente, donna, niente. E se mezzatiti, a quale non hai né un cadere, né un buono. Vasegnazio, che io dopo posso dare, io sono qua per voi, a posta completa di esposizione. Salutiamo, donna Ignazio. Donnello. Donnello, vedi a me. Non mi ne vado. Verissate, non ci mettete più per andare. Io mi aspetto a carriera, aspetto a Pansina che passa. Aspetto fino a domani a Matrino, fino a stanoppio, fino a Camoro. Oh, donna, bucca di minzogna. Quante promisse. Quanti giù. Ma ho detto a Giubarrino, che ce la stai donare. Ci faccio denare, non piace. E' vero che ha mangiato sto buono. Buono, un buono, se non mi credete, mi ha mangiato un cuoccolino a frugate che erano meglio della carne che vedete. Oh, che galanteria. E poi? In che senso? E tu, con la bella fumata andava viva. Con giù scoccoli, i viceriggi sono qua presenti all'ordine. A che giù che è vero buono, mi ha saltato, un buono. Oggi vigilia. E' un buono, un buono, un buono, un buono, un buono, un buono. Vigilia, un buono, 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 un buono. Vigilia, un buono, 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 un buono. Ma faccio buono e mangio tutta la cucchetta. Che verranno con voi, un bar di miele. Ma oggi adesso invignavo il cammello, che avevo un nuovo cuore. Il cammello. Rassata lo cacere. Tu fuori muro. Fuori. No, non fuori muro, è passato fuori muro al cacere. Sopra banchinata. Di non buttire i canazzi corsi. I canazzi corsi, compara, le canazzi... Come dire, c'è un buono, un buono, un buono, un buono, un buono. Ma che capisci, compara, le canazzi corsi è un'allegoria. Questa categoria di canazzi corsi è un'allegoria. Lo sapete che significa? No, compara, non c'è. Voi spiegare, le canazzi corsi rappresentano la giustizia, la legge. E che sapete? E da l'alleggia, 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 si parla. Ma che cosa sia, non giuri? Giuro quando mi fa come. Ma buono, fino a quando la... Ma ci vuoi essere o non ci vuoi essere? Mi dico, ti devo fare una verità. Questa lega è socialismo. Socialismo? Ecco, io del socialismo mi ho compito. Ma che stai dicendo? Non devo fare. E' un buono, mi dico. Questo è il problema che c'è oggi in Vigilia, che per taluno si dà come l'orbe. Perché Nino, per un operaio non c'è per... Parla armato, perché non ci spieghi il cammino, compara Nino, che è orbe e c'è una polocchi. Ma tu ci vuoi l'orbe, io voglio che è la sanguola da polopetta. Comparo, state capendo lo scusso, non hai visto polocchi. Perchè, perchè si d'occurre, tu spacinato mangi, e io mangio. Ah, perciò, tu che si spacinato mangi, io mangio, io mangio, tu mangi, e noi non ci mangiamo. E qua resta? Io mangio, tu mangi, tu mangi, tu mangi, tu mangi, io mangi, io mangi, io mangio. Non forse, non guarda. Ah, ci pensavo, ci pensavo. Perchè si d'occurre, tu spacinato mangi, e io cosa mangio, che fai? Puote, compara, ma chiedeci, stup, perché mi dirà per la giura, il mio abbraccio scorso, chi è? No, compara, per me? Cancellati, scancellati. I palazzi, ma non hai questa cosa. Quasi il tuo mortaccio da favore. E io ci metto gli abbraccio, la lampa di te, da lei, da lei. E poi lo metterai a far uscire tu. Se io compara, quando mangio, non mangio. Quando spreco di mangiare, voglio tutto. Ah, grazie, calzante. Grazie tanto. Mi levo l'inguarnimento, un momento, ma... Sta sbagliato, sta sbagliato. Ah, per riferirlo a questa scritta. Ma aspetta, se andai da... Ma all'assai? All'assai, ho scritto lo santo. E' un tempo, quando arrivo a casa, lui, capo un'altra volta. Ho camminato con la pace, la salute, l'onore, ora mi lascia. E che corriamo da me? Parrati, mi sentavi tenare quanto a petto. Mi pare giusto. Fatto con violenza. Mi chiede se prendiamo la pennella. I pennella, compara. La pennella. No, no, la pennella. No, no, la pennella è in chirurgia. Ma che fai? Noi saperemo la gravata rossa. Vedremo. Il socialismo. Il socialismo porta tanti vantaggi. Innanzitutto il vantaggio della fratellanza da tutti i socialisti, che si volano bene come una famiglia. No, mi chiedevo il discussione. Allo, il socialismo. Il socialismo porta tanti vantaggi. Oh, bravo. La giusta lì, che vu, sredi che sembra.